io non ci sto credendo, non ci sto credendo, la rimonta, mamma mia ragazzi che tiro di cristante, ragazzi la rimonta del Torino, io non ci sto credendo, sono sconvolto, ragazzi questo Torino con Davide Nicola ha veramente un altro spirito, domani ragazzi tre video probabilmente uno sarà riguardante un trasferimento, un altro Rubir Cagliari, il ritorno poi un altro sarà i pagelloni che usciranno anche essi domani, intanto questa luce di merda che è un miscuglio tra la luce artificiale e la luce naturale, ma ragazzi di Avarà, di Avarà è espulso ma all'inizio è andato bene, la Roma ha attaccato, il gol l'ha trovato con Borja Majoral dopo soli tre minuti, il gol che inizialmente è stato non convolidato e poi dato, ma ragazzi poi è arrivato Antonio Sanabria e ha segnato ragazzi questo Antonio Sanabria veramente adesso che con il Torino ha ritrovato se stesso un grandissimo calciatore di tutto rispetto perché veramente sta facendo una stagione strepitosa questo calciatore e poi è entrato Zazza mi sa dopo neanche un minuto e ha segnato ragazzi veramente Zazza oggi se ha segnato Zazza possono segnare tutti quattro minuti di recupero, ma ragazzi non penso ci sarà molto da fare, la Roma veramente sembra che stia ormai puntando solo alla UEFA Europa League e allora direi ragazzi perché di questo passo non arrivano neanche all'Europa League o alla conferenza, intanto qua attenzione sbaglio difensivo ancora però la tiene al 91esimo la Roma ragazzi veramente così non vanno, ma ragazzi veramente così non vanno, devono puntare tutta l'Europa League ormai attenzione qua la spavatura, Belotti, Belotti il pallone in mezzo 3 a 1 Toro, ha segnato ancora il Torino 3 a 1 non ci credo che spavatura difensiva e adesso la rete di di Rincon appena entrato insieme a Zazza ha scolpito l'ex Juventus e adesso Nicola è increduro ragazzi io pensavo che Nicola avrebbe fatto niente ma adesso allo stadio Grande Torino arriva il 3 a 1 e Fonseca ragazzi se non vince l'Europa League secondo me verrà licenziato verrà esonerato secondo me 3 a 1 Toro che ragazzi veramente il Torino i nostri cugini hanno ritrovato un periodo di forma strabiliante strabiliante cioè proprio da quando si è andato Gianpaolo hanno fatto molto bene se avessero iniziato così la stagione secondo me magari sto sparando troppo alto sarebbero per competere in un posto in Champions e speriamo che esonerino Nicola perché se no l'anno prossimo mi trovo alla Juventus Conference League anzi è il playoff di Conference League mamma mia ragazzi questa Roma avrebbe iniziato bene e subisce la rimonta reti di Borja Majoral Rincon Zazza e Antonio Sanabria ma ormai mi sa che non c'è più tempo ragazzi manca solo un minuto siamo al 92esimo e 52 secondi veramente ragazzi molto strano molto strana questa partita la Roma che sembrava essere predestinata a vincere dopo soli 3 minuti viene rimontata in solo un tempo da questo Torino che veramente ha trovato un periodo di forma strabiliante ha dei giocatori ragazzi che sono sì buoni ma non è che siano da Europa per me è più da metà classifica hanno giocatori sì come il Gallo ma hanno a centrocampo ma a Dragola che ha fatto una grandissima prestazione sono stati salvati 2-3 gol davanti hanno Voi Voda dai ragazzi Voi Voda che schifo hanno un culo l'unica cosa buona è un po' la difesa che hanno un culo Singo Izzo e Voi Voda che non mi piace molto ma oggi ragazzi Sergei no no che Sergei non mi ricordo come vai Vaja Milikovic Savic prestazione magistrale mi sembrava più Noyer ma non Noyer perché sia così forte intanto è finito ragazzi è finita la partita triplice fisco non perché sia Noyer ragazzi ma perché ha fatto delle uscite veramente i portieri oggi sono stati abbastanza volanti ragazzi io non ci credo bella